Benvenuti amici di TecnoAndroid.it, oggi vi parlo di Shopalike, un'applicazione per gli acquisti online, veramente molto leggera, con 3,4 MB, molto semplice da utilizzare. Adesso vi spiego come funziona, per chi non lo sapesse Shopalike è un sito internet che aggrega più di 1.700 negozi online, in cui potrete effettuare gli acquisti su diversi settori, dall'abbigliamento uomo-donna-bambino, accessori per la casa, lo sport, la bellezza, l'ufficio e persino per gli animali. Come vedete le categorie sono divise in diverse box, cliccando su ognuno dei quali si va ad aprire un insieme di sottocategorie, ovviamente per l'uomo-donna-bambino abbiamo abbigliamento, calzature, accessori, nel caso dell'uomo anche orologi, nel caso della categoria donna invece gioielli e orologi. Poi ogni sottocategoria ne apre altre tante in cui poi possiamo scegliere quello che stiamo cercando. Shopalike.it è un sito internet che io definisco un centro commerciale online, perché aggrega più di 1.700 negozi online dove poter cercare appunto ciò che state cercando per i vostri acquisti, quello che è meglio e vi offre diverse possibilità. In che senso? Se noi andiamo, come ho fatto vedere nelle diverse sottocategorie, ovviamente c'è tutto un elenco di elementi. Oltre a questo, quindi in questo caso di giacca e abbigliamento da uomo, oltre questo però abbiamo anche due tasti, come vedete, filtro e seleziona. Se andiamo a cliccare su, tappare su seleziona, abbiamo in questo caso selezionato su top seller, però possiamo decidere di utilizzare la nostra ricerca in base ai prezzi, quindi ascendenti e discendenti, quale prodotto ha lo sconto maggiore e quali prodotti invece sono più recenti, quindi facilitando di molto la nostra ricerca. Per quanto riguarda i filtri, invece, possiamo sia tappare sul tasso, che con uno semplice swipe da destra verso sinistra si apre tutta una serie di filtri. Ovviamente il primo selezionato è per chi è uomo. Possiamo scegliere il range di prezzo, se i prodotti devono visualizzare solo prodotti scontati e se anche senza spese di spedizione. Ovviamente possiamo scegliere uno o tutti gli elementi per filtrare. Ovviamente poi ci sono anche i colori, le taglie, il look casual, dandy, elegante, eccetera, i materiali, la marca persino, e addirittura anche scegliere proprio il negozio sul quale vogliamo effettuare la ricerca e quindi in definitiva anche volendo l'acquisto. Altro swipe si può fare da sinistra verso destra, questo apre un elenco di impostazioni, home, lista dei preferiti, se scegliamo uno dei prodotti che vogliamo acquistare lo inseriamo nei preferiti e dopo lo andiamo ad analizzare più in dettaglio insieme ad altri prodotti che magari abbiamo scelto che sono tra le possibili acquisti. E poi possiamo, ovunque ci troviamo sempre con questo swipe da destra a destra a sinistra, poi variare anche il tipo di prodotto che andiamo a scegliere. Quindi in questo caso, per esempio, prodotto per gatti, cani, animali in genere. L'applicazione è molto leggera, ha solo 3,4 MB, compatibile con versione Android dalla 2.3 in poi. Disponibile sul pressore anche sulle pagine di shopalike.it, nell'articolo legato al video troverete tutti i riferimenti per scaricare l'applicazione anche dai loro siti. dal loro portale. Un'applicazione molto leggera, molto intuitiva, molto semplice e anche molto carina, con questi colori che distinguono le varie categorie. All'inizio, quando viene installata, la prima schermata che appare è quella in cui bisogna scegliere la lingua. E basta, questa è tutta l'operazione che va fatta, poi si apre direttamente l'applicazione Home Screen in cui poter scegliere la categoria che ci interessa. Sicuramente è un'applicazione che, una volta scaricata, sicuramente non potrete più fare a meno, perché è molto utile. Veramente, cioè, basta inserire qui una qualunque parola, come vedete si apre anche un sottomenu che vi indica le parole, il completamento della parola che state cercando. Diciamo ad esempio giacche e quindi si va a ricercare le giacche, ovviamente in questo caso sono miste tra uomo e donna, perché non abbiamo impostato il filtro che possiamo andare ad impostare. Qui, uomo, ed è fatta, abbiamo tutte le giacche con le offerte che possiamo trovare online. Veramente è un'applicazione, ripeto, molto utile. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori da Android.it